Per creare una gru origami, comincia con il piegare un pezzo quadrato di carta a metà, verticalmente. Orizzontalmente e in diagonale, aprendolo ogni volta dopo averlo piegato. Piega quindi gli angoli della parte superiore su quelli inferiori e premi i lati in maniera che la carta assuma la forma di un piccolo diamante. Successivamente, prendi lo strato superiore del lato destro e chiudi il bordo inferiore sulla riga centrale. Ripeti il passaggio con il lato sinistro. Chiudi la parte superiore del diamante verso il basso, in maniera che la piega rimanga lungo la linea orizzontale creata dai due triangoli precedenti. Apri quindi l'angolo superiore e i due triangoli precedenti per tornare di nuovo alla forma del diamante. A questo punto, piega lo strato più in alto del punto inferiore verso l'alto, in maniera che il lembo sinistro e quello destro si ripieghino naturalmente, creando un diamante lungo e stretto. Piega e appiattisci la carta con attenzione. Gira la carta al rovescio e ripeti il processo per creare un altro diamante stretto e lungo. A questo punto, la carta dovrebbe avere l'aspetto di un diamante stretto e lungo, con due gambe nella parte inferiore. Poi, afferra il punto sullo strato superiore del lato destro e chiudi il bordo esterno inferiore verso la linea centrale. Ripeti sul lato sinistro. Piega l'intero lembo destro sulla linea centrale, come se stessi girando la pagina di un libro. A questo punto, entrambi i lembi dovrebbero trovarsi sul lato sinistro. Giralo a rovescio e ripeti il processo. Successivamente, afferra lo strato superiore della punta in basso e piegalo verso l'alto, in maniera che la punta inferiore tocchi i punti del lato superiore. Piega il lembo destro verso sinistra. Ripeti dall'altro lato. Piega quindi le ali in maniera che sia visibile il corpo. Infine, piega la punta della testa verso il basso e tira le ali con delicatezza.